Nel rapporto fra numero di dipendenti e numero di aggressioni, l'azienda ospedaliera universitaria senese è il numero più basso di tutta la regione toscana. È quanto emerge dalla seconda giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari che si è tenuta nell'aula magna del rettorato dell'Università di Siena, organizzato dal gruppo di lavoro sulle aggressioni dell'AU senese. I dati regionali sono stati presentati da Giovanna Bianco, responsabile osservatorio di aggressioni e operatori sanitari della regione toscana. Il commento è del direttore generale dell'AU senese, il professor Antonio Barretta. Nonostante la percentuale di aggressioni nella nostra azienda sia fra le più basse, anzi la più bassa in Toscana, è bene riflettere sul fenomeno anche con altre realtà, con altre aziende. Oggi è presente l'Asl sud-est e quindi cercare di identificare anche delle iniziative, delle strategie per migliorare ulteriormente, perché garantire la sicurezza ai nostri operatori è fondamentale affinché abbiano un contesto sereno, possano vivere in un contesto sereno dove svolgere le proprie attività. Il gruppo di lavoro interdisciplinare è importante perché i miglioramenti possono venire immaginati grazie al contributo di tanti soggetti. Sono state fatte varie iniziative, sono state ideate varie iniziative, ne cito due, fra le tante è stato fatto un corso di formazione teso a migliorare la capacità dei professionisti nella gestione delle relazioni anche nei momenti di difficoltà. E questa è un'iniziativa molto importante perché i momenti anche critici bisogna saperli gestire. E un'altra iniziativa che è stata fatta invece di tipo strutturale, è stata potenziata in alcuni luoghi delicati, la videosorveglianza. L'iniziativa della giornata nazionale è stata promossa a partire dal 2022 dal Ministero della Salute con lo scopo di condannare ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità, promuovendo una cultura che garantisca la sicurezza nello svolgimento del proprio lavoro. Nel dettaglio le aggressioni sono state all'azienda ospedalera universitaria senese, 49 nel 2019, tutte verbali, 5 nel 2020, anno del Covid, ancora tutte di natura verbale, 22 nel 2021, di cui due fisiche, e 11 nel 2022, di cui una fisica verso cose. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del rettore Roberto Di Pietra, dell'assessore regionale Simone Bezzini e dell'assessora comunale Francesca Polloni. Sono intervenuti poi l'Avvocato del Foro di Firenze Fabio Piccioni, Maria Teresa Ferraro dell'Università di Siena, Simone Gepponi dell'azienda US da Toscana Sud-Est, Pietro Secchi, Anna Coluccia, Carla Garoni, Giovanni Battista Miceli, Giovanni Bova e Mauro Costabile per la OUS Senese, con le conclusioni della direttrice sanitaria Maria Francesca De Marco. Ascoltiamo Pietro Secchi, responsabile del servizio Prevenzione e Protezione della UOC Gestione della Sicurezza dell'azienda ospedaliera Università del Senesi. La giornata di oggi ha una doplice funzione, sia quella appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica, la cittadinanza di questo importante problema, ma anche quello di appunto portare a conoscenza di tutti, tutte le misure che sono state messe in atto per prevenire questo problema e per appunto fronteggiarlo. Quindi per fare in modo che non rimanga tutto, siamo scritto sulla carta, ma che poi vengono prese, diciamo così, misure concrete. Oggi siamo qua per anche raccontare quello che è lo stato dell'arte in azienda ospedale dell'Università del Senese e quindi portare anche poi i risultati di quello che è appunto lo studio che abbiamo condotto.